Prosegue lo screening messo in campo da Asle Comune con il supporto di esercito Carabinieri e Croce Rossa in vista del rientro a scuola. Tanti gli studenti che si stanno sottoponendo al test di massa che durerà sino a domenica e che è stato caratterizzato da qualche polemica per l'esclusione dei più piccoli di nido infanzia. Ieri sono stati effettuati 1.382 tamponi all'Aquila, 453 a Preturo e 929 a Monticchio, 40 ai positivi, 8 test annullati. Su base provinciale la percentuale di positivi dello screening supera il 2%, un'incidenza non bassa ma prevedibile. Nella giornata di ieri dove hanno iniziato lo screening solo quattro comuni a dir la verità, compresa l'Aquila insomma che è il capoluogo, hanno partecipato 1931 persone e abbiamo riscontrato una positività di 40 ragazzi grossomodo e per una percentuale del 2.5% di positivi rispetto alla popolazione testata. Non è bassissima ma è una percentuale che grossomodo ci aspettavamo insomma quindi sicuramente insomma c'è un virus che circola anche tra i ragazzi quindi indubbiamente le scuole sono una situazione diciamo da tenere sotto controllo. Questa mattina le operazioni sono riprese in modalità drive-thru sia a Preturo all'aeroporto che a Monticchio. La giornata di ieri soprattutto a Preturo si era caratterizzata per qualche fila segnalata dall'utenza visto il grande afflusso e qualcuno per fare il tampone atteso un po' ma le forze in campo stanno facendo davvero di tutto per fronteggiare questa emergenza. La grande affluenza dimostra inoltre senso di responsabilità da parte delle famiglie. Per la riapertura delle scuole c'è preoccupazione, la situazione va monitorata attentamente ma le scuole per il dottor Domenico Pompei vanno riaperte. Ad ogni modo all'Aquila almeno al momento non si prefigurano slittamenti nella riapertura come accaduto invece a Carzoli dove il sindaco ha slittato di una settimana la riapertura e rientro sui banchi a causa dell'elevato numero di contagi in quell'area. Sicuramente il ritorno a noi ci preoccupa soprattutto per le modalità di testing che sono state stabilite dal livello governativo che per noi come ASL è veramente pesante insomma testare con una cadenza così stringente però chiaramente la scuola va riaperta sicuramente al momento non ci sono notizie di slittamenti. Grazie. 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 Grazie.